Buonasera a tutti, innanzitutto grazie ad Anna Macri per aver scritto questo libro ed aver anche promosso questa presentazione che abbiamo ovviamente immediatamente accolto qui in Senato. Mi scuso per il ritardo ma stavamo svolgendo delle audizioni prima con il Cismai su un tema che è contenuto in questo libro cioè quello della violenza assistita dai minori e l'audizione dei sindacati perché grande è il tema della violenza sommersa che appunto sta emergendo in queste settimane dopo le denunce fatte da donne dello spettacolo ma che rivela come le molestie anche su luoghi di lavoro è una parte del fenomeno enorme della violenza di genere. Questa commissione d'inchiesta istituita appunto per legge di cui è stata relatrice la senatrice Lomoro ha un compito grande perché se in questa legislatura non siamo stati di certo con le mani in mano su questo tema su questa grave violazione dei diritti umani perché abbiamo iniziato nel 2013 immediatamente la legislatura con la ratifica della convenzione di Istanbul immediatamente dopo il decreto 119 sul femminicidio che ha istituito innanzitutto il gratuito patrocinio per le donne che decidono di denunciare la violenza che subiscono ma anche ha inserito l'aggravante per la violenza assistita da minori e altre cose importanti per la protezione delle donne come provvedimento amministrativo dell'ammonimento e ringrazio anche le forze dell'ordine che sono che sono presenti per quanto stanno facendo per fare appunto dei passi avanti nella protezione innanzitutto delle donne c'è l'allontanamento dalla casa familiare ma è molto altro ancora subito dopo abbiamo fatto un altro passo che è quello dell'inserire nella famigerata buona scuola quel comma 16 della legge 107 che impone alle scuole di ogni ordine e grado di inserire nei piani triennali di offerta formativa attività di educazione di ragazzi e ragazze bambini e bambine alla parità tra i sessi ma anche alla prevenzione della violenza di genere quindi un'altra cosa importante poi di recente attuata dalla ministra fedeli attraverso le emanazioni di linee guida fatte alle scuole e poi c'è stato il piano straordinario contro la violenza sulle donne sempre in attuazione della convenzione di Istanbul e al decreto sul femminicidio infine l'istituzione di questa commissione d'inchiesta che ha il dovere ha il compito non solo di indagare l'ampiezza del fenomeno e quindi la dimensione del fenomeno ma anche di andare a verificare se i finanziamenti stanziati dal governo se tutto ciò che appunto contiene sia la convenzione di Istanbul che le normative che a seguito di quella importante convenzione abbiamo creato anche nel nostro paese le stiamo davvero attuando e come le stiamo attuando lasciando quindi una relazione finale che dovremmo fare al termine di questa legislatura quindi a brevissimo come indicazioni al futuro Parlamento e al futuro governo a questo punto sulla strada da continuare a percorrere insieme per sradicare la violenza di genere dal nostro paese e io credo che insieme si possa fare questo lavoro ovvero è importante questa relazione forte che ci deve essere tra tutti gli attori della società italiana dai centri antiviolenza alle forze dell'ordine agli operatori di giustizia ai servizi sociali all'impegno di tutti degli insegnanti della società italiana intera a innanzitutto riconoscere il fenomeno della violenza e a saperlo quindi far emergere c'è un dato questo libro parla di storie di donne della Calabria la cosa che emerge immediatamente è come dire rispetto al centro nord il sud ha meno femminicidi subiti quindi da donne questo da un lato è un dato positivo ma che dimostra come il femminicidio sia una reazione all'emancipazione femminile cioè una relazione di potere ma il minor dato invece di denunce che attraversa tutte le regioni del mezzogiorno ci deve far riflettere perché praticamente è speculare al numero di centri antiviolenza e di protocolli anche che sono uno degli strumenti su cui stiamo molto lavorando per far emergere le donne ma soprattutto per offrire alle donne dei percorsi di uscita dalla violenza domestica quindi far emergere la violenza che spesso colpisce le donne significa far sentire loro le istituzioni vicine far sentire le istituzioni vicine far sentire la vicinanza delle istituzioni anche ai centri antiviolenza che sono quei luoghi dove grazie alla forza di altre donne altre donne in difficoltà prendono il coraggio e riescono quindi ad attivare quei percorsi che sono fatti di percorsi di lavoro di autonomia abitativa che sono necessari appunto per rendere finalmente queste donne libere e libere dalla violenza quindi ecco un grande lavoro che dobbiamo fare tutti assieme sono molto grata ad Anna Macri per questo libro perché è importante appunto dare voce dare voce e far sentire appunto le donne non sole in ciò che ciascuna vive spesso in totale solitudine all'interno di contesti drammaticamente comuni cioè spesso il nucleo familiare e volevo farle una domanda solo si è molto parlato anche di tagli ai fondi per i centri antiviolenza è una cosa reale? sono stanzati altri fondi per aiutare le donne in cerca di protezione? in realtà ciò che emerge anche dalla relazione della corte dei conti che abbiamo esaminato ovviamente distribuito all'interno della commissione d'inchiesta non sono diminuiti i fondi stanziati dal governo tutt'altro sono dal 2013 al 2016 sono stati stanziati 60 ed erogati alle regioni 60 milioni di euro purtroppo non tutte le regioni poi li hanno utilizzati o nel modo corretto o addirittura non li hanno proprio distribuiti affatto e purtroppo come spesso accade nel nostro paese quando lo Stato istituisce un fondo spuntano come funghi associazioni non meglio identificate che si candidano a percepire quei fondi e da ciò che dice la relazione della corte dei conti non tutti i centri antiviolenza che si sono appunto promossi come tali avevano poi requisiti di qualità e di preparazione delle operatrici che servono per aiutare davvero le donne ad affiancarle in un percorso che è davvero complicato e lo stiamo vedendo è un altro degli ambiti mi avverrò anche delle competenze appunto della senatrice Lumoro ma stiamo lavorando molto seriamente perché insomma partono quando una donna denuncia poi procedimenti in parallelo tra processo penale tribunali ordinari, tribunali per i minorenni se ci sono dei bambini che spesso partono in parallelo e non dialogano tra loro quindi queste donne vanno sostenute ma vanno sostenute nel momento in cui decidono autonomamente e non vanno forzate in questo di denunciare vanno anche sostenute con grande professionalità per questo come si spendono quei fondi è importante non ci sono stati dei tagli ma probabilmente dobbiamo cambiare un'altra delle indicazioni che daremo il sistema di governance di quei fondi perché le regioni devono tornare tutte le regioni questo, la loro funzione di programmatore ma poi i percettori dei fondi devono essere i centri antiviolenza e i comuni che su questo fronte riescono ad operare con maggiore efficacia Perfetto, grazie a Francesca Puglisi